In questa puntata, aree interne Azioni a sostegno delle zone disagiate Approvato il bilancio preventivo 2021 di IRPET Approvati i bilanci di ARTI Approvato all'unanimità un atto di indirizzo nei confronti della Giunta sulle misure di sostegno delle aree interne della Toscana presentata dalla Commissione Aree Interne La Commissione Aree Interne è stata una scommessa che abbiamo fatto all'inizio di questa legislatura e io come Presidente ho voluto subito sottoporre alla valutazione della Commissione alcuni indirizzi che oggi abbiamo approvato unanimemente Innanzitutto noi nel 2020 abbiamo erogato come Regione 2 milioni e mezzo circa di fondi ai comuni montani all'Unione dei Comuni per alcuni progetti 15 progetti che sono venuti dai territori erano meritevoli di finanziamento ma non c'erano risorse sufficienti noi chiediamo alla Giunta che nei prossimi atti di bilancio siano coperte o il finanziamento di questi 15 progetti così come rispetto al bando del sistema neve per gli ammodernamenti delle loro infrastrutture ci sono ancora 300 mila euro di richieste da finanziare potrei continuare con la questione del piano di sviluppo rurale i territori montani hanno il problema dell'abbandono l'agricoltura è l'antidoto ai fenomeni di abbandono non solo in montagna noi quindi abbiamo chiesto alla Giunta un'attenzione particolare visto che si sta trattando con l'Europa il prossimo piano di sviluppo rurale sul ricambio generazionale sul tema della forestazione e ovviamente anche la questione dell'indennità per le aziende agricole nelle aree montane questa commissione è nata proprio con l'intento di aiutare le aree interne e stiamo lavorando con le audizioni proprio perché ascoltando la voce dei diretti interessati a breve nella prossima commissione avremo i sindaci proprio delle zone della neve ascoltando le loro problematiche possiamo in qualche modo poi trovare delle soluzioni adeguate sappiamo tutti che le aree interne soffrono da tanto tempo per tante motivazioni noi dovremo tener conto dei problemi legati anche all'agricoltura nelle zone montane che è molto più difficoltosa rispetto a quella delle zone pianeggianti io in particolare cerco di prestare l'attenzione anche alla scuola in quelle zone e anche ai servizi sanitari territoriali perché senza queste due importanti istituzioni la gente se ne va e la montagna si spopola la montagna ha partorito un topolino in questo caso la montagna è la commissione aree interne che aveva l'opportunità di intervenire a favore delle aree interne in maniera importante invece si limita a fare un appello al governo quando c'è da mettersi le mani in tasca quando ci sarebbe invece da prendere degli impegni diretti da parte della regione toscana si vede che ci si lava le mani in maniera disarmante la regione toscana ad oggi non ha messo un solo euro a disposizione della montagna la montagna sta vivendo una crisi drammatica potrebbe fare degli interventi come sospendere i canoni per le piste da sci quando insistono sul demanio regionale sarebbe una misura che si potrebbe fare qui in consiglio regionale con un voto ci è stato detto che non era opportuno non era questo il momento ci sarà un momento più là in cui sarà più opportuno ecco si continuano a fare soltanto chiacchiere regione toscana ad oggi non ha stanziato alcun denaro a favore della montagna toscana le interne montagna sono tra le zone più sofferenti in questa fase abbiamo chiesto misure straordinarie per aiutare le imprese, le aziende, i comuni che in montagna hanno visto saltare di per sé una stagione abbiamo chiesto delle misure straordinarie noi nel nostro piccolo grazie a me abbiamo dato una misura simbolica ai maestri di cima quello era simbolico ora servono risorse vere per tutti quei ristoranti per quegli alberghi per quelle imprese, per quei comuni che vivono la realtà centrale della Toscana ancora più complessa rispetto ad alcune dinamiche lo deve fare il governo lo può fare la regione insieme dobbiamo tempestivamente dare una misura importante di ristoro a queste realtà io ho fatto parte della commissione costiera per i cinque anni precedenti e la mia esperienza non è positiva e quella che è stata la commissione costa è stato semplicemente un gruppo di consiglieri che girava per la costa per evidenziare delle criticità che in regione toscana tutti dovevamo conoscere a mena dito io spero che la commissione aree interne non sia una cosa analoga ma al momento non sembra essere cambiata molto in questo momento banalmente per il fatto che siamo in emergenza covid sta recependo quelli che sono i problemi delle aree interne ma la regione dovrebbe farsene carico anche senza bisogno di questa commissione ci dovremmo forse chiedere come mai abbiamo bisogno di commissioni specifiche per queste aree perché allora ci riempiamo la bocca di Toscana diffusa quando poi non è così e addirittura abbiamo bisogno di una commissione per scoprirlo Il Consiglio ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo 2021 dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana Si sa che le risorse principali di cui si avvale IRPET vengono dal contributo ordinario della regione toscana ma anche da una importante attività che IRPET pone in essere rispetto ai fondi europei in stretta collaborazione con la regione toscana Le spese principalmente sono quelle relative proprio all'attività di ricerca e ai servizi collegati all'attività di ricerca nonché quelle relative al personale Il conto economico si è quindi presentato pari a 3 milioni e 300 mila euro circa proprio derivante sia dalle spese di gestione sia dai ricavi con una chiusura che è sostanzialmente in pareggio in sintonia con quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale del 2019 Il Consiglio regionale ha espresso rispetto al bilancio di previsione di IRPET un parere favorevole a larghissima maggioranza trovando anche la convergenza di molte delle forze di opposizione Noi abbiamo votato a favore perché se qualcosa ha sbagliato IRPET è soprattutto per colpa della Giunta regionale per esempio la Giunta regionale ha presentato tardi il programma di attività e quindi il bilancio è stato concluso purtroppo non nei tempi però bisogna vedere nei numeri oggettivamente siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che viene fatto e di un bilancio dove le voci di entrata di spesa ormai sono consolidate per quanto riguarda l'entrata e il contributo della regione per quanto riguarda l'uscita e il costo del personale che però occorre mettere in evidenza da 37 unità e passa da 35 quindi è vero che c'è stato un leggero aumento ma non dovuto a IRPET ancora una volta quanto piuttosto al contratto collettivo di lavoro nazionale a una nuova contrattazione quello che mi ha messo in evidenza è proprio la visione di IRPET che a noi rispetto a quella della Giunta veramente ci trova alquanto d'accordo con la necessità di ricostruire la Toscana Sì, l'istituto regionale sta facendo un lavoro importante sicuramente lo dovrà fare nelle prossime settimane nei prossimi mesi dovrà soprattutto calcolare, studiare comprendere gli effetti della pandemia sulla economia della Toscana e vedere zona per zona qual è stato l'impatto economico che si è tramutato ovviamente in ambito locale e quindi nei prossimi anni ridisegneremo una Toscana nuova deve essere uno studio importante perché deve essere propedeutico al nostro nuovo piano di regionale di sviluppo che dovrà collegarsi con i finanziamenti comunitari e con i finanziamenti dei recovery plan quindi una Toscana che sicuramente uscirà diversa da come è entrata in questa pandemia con delle situazioni che avranno in alcuni casi peggiorato il proprio status economico più di altri e su questo dovremo costruire i prossimi piani di programmazione regionale IRPET è sicuramente un organismo fondamentale perché ci aiuta ad approfondire anche degli aspetti molto tecnici del lavoro che facciamo dal punto di vista del bilancio abbiamo delle perplessità per esempio il grande numero di consulenze che serve io credo che queste consulenze andrebbero internalizzate per avere anche modo di utilizzarle sotto i vari fronti di cui la regione toscana avrà bisogno nei prossimi anni sul bilancio di IRPET abbiamo votato contro perché c'erano molte cose che non ci tornavano a partire dal bilancio che è stato presentato in ritardo siamo poi passati allo sforamento del tetto sul personale quindi sui soldi che devono essere dati al personale e allo sforamento sul tetto previsto in bilancio per gli incarichi esterni e le consulenze è inaccettabile che un ente partecipato dalla regione toscana porti un bilancio in questo modo oltretutto IRPET vive esclusivamente di finanziamento pubblico oggi siamo a un cambio di passo verrà nominato a breve il nuovo direttore auspichiamo che il nuovo direttore venga scelto per competenza per professionalità e per merito Via libera a maggioranza in aula al bilancio di esercizio 2019 e al bilancio di previsione 2021 dell'Agenzia regionale per l'impiego Arti si conferma una rete di centri per l'impiego che ha dimostrato negli anni di saper soddisfare l'incrocio della domanda e offerta con una risposta di soddisfazione che va a circa sul 98% raccogliendo le richieste di circa 18.200 imprese un volume di circa 60 milioni abbiamo fatto una grande riflessione su Arti perché la rete dei centri dell'impiego che conta 500 dipendenti più altri 250 che fanno capo alla rete degli Ampal e quindi Navigator utilizzati anche in questo periodo per l'inserimento lavorativo è una grande rete che dovrà nei prossimi mesi e questo l'abbiamo detto anche in occasione del bilancio di previsione fare i conti con una situazione lavorativa ed economica della nostra regione che sta profondamente cambiando purtroppo e quindi ci sarà la necessità sia di formare sia di cercare di ricollocare figure che sicuramente ne avranno bisogno Difesa del suolo e della costa toscana la regione stanzia 25 milioni per il prossimo triennio è quanto emerso in commissione ambiente nel corso dell'audizione dell'assessore Monia Monni sui contenuti del documento operativo per la difesa del suolo e del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera 2021 in commissione affari istituzionali audizione dell'assessore Stefano Ciuoffo e dei dirigenti di poste italiane sulla situazione delle aree marginali un primo provvedimento ha determinato la chiusura di 496 sedi ha detto la dirigente di poste Serena Santo con una diffusione territoriale che va dal 65% nella provincia di Grosseto al 42% di Firenze e Prato le azioni successive hanno portato il 26 marzo dello scorso anno giorno di pagamento delle pensioni a riaprire 123 sedi ed altre 245 nel mese di aprile ad oggi un centinaio di sedi non sono aperte ad orario standard sono in comuni con oltre 1000 abitanti e tutti tranne 9 casi con altri uffici disponibili doppia audizione in commissione Europa che ha sentito l'onorevole Antonio Tajani vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia già presidente del Parlamento europeo e ancora oggi europarlamentare e il presidente della Toscana Eugenio Gianni per un aggiornamento sulla stesura del piano nazionale di ripresa e resilienza che dovrà intercettare i fondi destinati all'Italia dall'Europa nel programma Next Generation EU l'approccio del nuovo governo Draghi sulla gestione del recovery plan non è cambiato molto rispetto a quello del governo Conte ha detto Gianni gestione molto centralizzata con la presidenza del Consiglio dei Ministri e i suoi collaboratori che elabora la cornice generale da presentare all'Europa come regioni ha continuato Gianni non abbiamo ancora avuto un incontro ufficiale col governo e una procedura di progetti regionali da inserire nel recovery plan non c'è l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini ha fatto il punto sull'andamento del vaccino anti-covid in Toscana in Commissione Sanità un aggiornamento che d'ora in avanti diventerà settimanale Bezzini ha comunicato che la Toscana supererà le 650.000 somministrazioni di vaccino rimanendo sopra la media nazionale in quanto a intensità di vaccinazioni ci sono criticità questo è indubbio sulle vaccinazioni agli over 80 ha sottolineato l'assessore dovute al fatto che si è scelto di puntare sui medici di medicina generale e che coinvolgerli ha richiesto un po' di tempo provocando un ritardo nell'andamento delle vaccinazioni entro il 25 aprile ha garantito tutti gli over 80 avranno avuto la prima dose di vaccino per la categoria 70-79 anni al momento le dosi inoculate sono 40.000 per quanto riguarda la categoria degli estremamente vulnerabili ai quali è riservato Moderna ci sono state difficoltà con l'apertura del portale ha detto Bezzini per evitare nuovi intoppi da click day metà delle dosi in arrivo saranno riservate a casi delicati che saranno chiamati direttamente dalle ASL per tutti gli altri sul portale si aprirà un'agenda in cui sarà possibile fare una programmazione degli appuntamenti fino a maggio la difficoltà nel fare una programmazione precisa a livello regionale ha però sottolineato l'assessore deriva dal fatto che dal livello nazionale ad oggi nessuno ci ha fornito il programma di fornitura dei tre vaccini neppure per aprile a livello nazionale